Anteprima della rassegna Libri sotto le stelle, questa sera con inizio alle ore 20 nell'atrio superiore del palazzo comunale di Sciacca. Protagonista della serata lo scrittore, architetto, attore e regista Francesco Carofiglio che presenta La stagione bella, edito da Garzanti. Un romanzo magico, misterioso che fa riflettere sulla vita, sulle scelte, sul dolore e sulla speranza. E' la storia di Viola, quarantenne laureata in psicologia, creatrice di profumi ed esperta di memoria olfattiva, che attraverso la forza travolgente di un'eredità emotiva prova a ricomporre i pezzi mancanti del rapporto con la madre Barbara, recentemente scomparsa. Una storia intima, intensa, dentro cui tuffarsi, perdersi e alla fine ritrovarsi. Un'anteprima, dicevamo, della rassegna letteraria Libri sotto le stelle 2024, organizzata anche quest'anno dalla libreria Mondadori di Sciacca, che prenderà il via il 7 luglio per concludersi il 18 agosto. Domenica, 7 luglio, la protagonista sarà Serena Bortone, giornalista, autrice e conduttrice RAI, che presenta A te vicino, così dolce, il racconto di un'epoca e di una generazione, quella di fine anni Ottanta, che si scopre apparentemente libera e irrimediabilmente ingenua. Si prosegue venerdì 12 luglio con Vinicio Marchioni, attore e regista, che presenta il romanzo Tre notti, ambientato agli inizi degli anni Novanta, che trae spunto da una vicenda autobiografica. Sabato, 27 luglio, la scrittrice, traduttrice, critica letteraria e finalista del premio Strega 2023, Romana Petri, presenta il libro Tutto su di noi, un'incursione profonda nei complicati legami di famiglia. Domenica, 11 agosto, lo scrittore, regista e sceneggiatore Salvatore Maira presenta Topografia di un delitto, vita e morte di Accursio Miraglia, nel contesto della Sicilia del dopoguerra, l'autore ricostruisce l'omicidio del segretario della Camera del Lavoro di Sciacca. Domenica, 18 agosto, Alessandro Cassieri, giornalista e corrispondente da Mosca del Tg1, presenta Tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini ad oggi.